I vari soccorsi di ieri sul Gran Sasso riportano al centro il tema dell'equipaggiamento e degli strumenti da portare con sé in quota. Ieri ci sono stati diversi distacchi di neve, il soccorso alpine e speleologico d'Abruzzo è intervenuto più volte. La valanga più importante è quella del canale Bissolati. Soccorsi dei turisti stranieri, tre sono rimasti feriti lievementi, a oltre 2000 metri in pantaloncini e maglietta e senza arva, strumento essenziale che serve proprio alla localizzazione in caso di valanga. Lungo diversi canali della parte meridionale ci sono stati distacchi, ma fortunatamente le persone che si trovavano in zona sono rimaste illese. È un periodo nel quale va prestata la massima attenzione, per questo andare in montagna in modo adeguato e con le apparecchiature tecniche necessarie è fondamentale, ma spesso ci si continua ad avventurare. Peraltro il bollettino Meteomont per la giornata di ieri segnalava un rischio marcato proprio a causa del rialzo termico. Non è il caso fare un elenco dei materiali da portare, ma bisogna conoscere l'ambiente che si va a frequentare per organizzarsi e portare al seguito il materiale necessario per il tipo di escursione che ci prefiggiamo. Oltre a quello che può essere il materiale necessario, dobbiamo avere dei piccoli materiali di scorta che possono essere utili in caso di situazioni non preventivate. In un momento come questo, ieri si era un po' rialzata la temperatura, c'è però ancora neve, ci sono stati quindi molti distacchi. Sono situazioni che però sono abbastanza prevedibili in montagna? Siamo al termine di una stagione invernale che è stata quantomeno anomala sia sotto il punto di vista delle temperature in termini assoluti che sotto il punto di vista della quantità delle precipitazioni. Ieri è stato il primo giorno che c'è stato un consistente rialzo termico anche in quota e la neve che era arrivata tardiva e non mette a paro le precipitazioni di quest'inverno è stata di colpo soggetta a temperature molto molto forti, non ha avuto un normale metamorfismo e di fatto ci sono stati degli importanti scaricamenti su tutti i canali del corno grande. Nel caso di non lasciare nulla al caso, perché in caso di incidente in montagna si può anche morire, non è utile che giochiamo a nascondino, quindi la prevenzione, la pianificazione attenta di quello che facciamo è fondamentale per evitare situazioni di pericolo che possono avere anche delle conseguenze gravissime.